Secondo il principio dei casi comunicanti l'acqua scorre sempre allo stesso livello, avete capito? Sempre! Ma per me la fruttatura non è assolutamente così! Non sempre! Ma va la sua mano! Adesso ti metti un 4! Sembra la solita capra! Eppure a me sembrava di aver visto due canali di diverso livello, ma sì, dai, quella volta che sono andato a fare un giro con i miei amici, vicino al podio di volano, ho visto una pompa idrologa che li univa! Adesso che ci penso, ho visto una cosa simile quando sono andato con i miei genitori a fare una gita con la barca nena, e per passare dal canale Boicelli al fiume Po abbiamo dovuto attraversare la punta di navigazione, perché i due fiumi dovevano raggiungere lo stesso livello. E adesso lo devo spiegare al prof! Ok ragazzi, oggi parleremo di... ...la ancora in ritardo! Fate sedere subito a posto! No prof, adesso devo dimostrare che ho ragione io! Guardi prof, l'acqua non è sempre lo stesso livello! Se no, fai là, la sarebbe allagata! Guardi il fiume Po, guardi il Po di volano! Quindi, aveva ragione io! Ciao! 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 Ciao!